L'arbitro Politi, La Pioggia e il solito istinto autolesionistico condannano il San Nicola ad un pari contro una Iesina che vuol dire addio praticamente definitivo alle possibilità di disputare i playoff. Agnonese e San Benedettese gli ultimi due ostacoli con una speranza da conservare fino alla fine che il miracolo sportivo, perché questo sarebbe, si compia. Epifani sceglie una difesa inedita con De Santis centrale ai suoi lati Terrenzio a destra per dare a sinistra in un 3-4-3 in cui Moretti vince il ballottaggio con Chiacchiarelli per affiancare Bucchi e Merlonghi. Mozzone a sinistra la gara la impatta che è una meraviglia, al quinto chiude il triangolo con Merlonghi e trova sul secondo palo Moretti che non impatta la sfera da ottima posizione. La Iesina si copre quando può e prova a pungere come al decimo con Pierandrei sinistro debole fuori misura. Il San Nicolo preme al tredicesimo ancora da sinistra, crea le premesse con un vantaggio che però non arriva perché Merlonghi invece di tirare preferisce servire ancora Moretti anticipato sul più bello. E così al ventiseiesimo arriva la beffa per i padroni di casa, Trudor in ripartenza coglie di sorpresa la retroguardia, Biancazzurra scarica il momento giusto per Cardinali che col sinistro fulmina calore per il vantaggio dei Leoncelli. Che avrebbero al trentunesimo anche la possibilità del bis se solo Pierandrei calibrasse meglio il lob a tu per tu con calore. La difesa ha tre balla paurosamente, allora Epifani torna allo schieramento a quattro con Terrenzo e De Santis centrali, Pretara a destra e Mozzoni a sinistra. La sveglia al quarantesimo prova a suonarla Merlonghi da piazzato, il destro è potente sì, ma di poco alto sopra la traversa. Merlonghi già, l'uomo in più, quello che si ritrova sul destro, al cinquantunesimo il pallone che scaglia l'incrocio dei pali lasciando di sasso Tavoni per il gol che vale la parità proprio ad inizio ripresa. La gara è aperta, Frulla al cinquantaseiesimo trova la sponda di Pierandrei che libera il sinistro sotto misura di Carnevali, di poco alto. Nemmeno il tempo di ripensare al pericolo scampato che il San Nicolò va vicino al sorpasso con un'azione insistita conclusa da Petronio col sinistro centrale e ribattuto da Tavoni. Si diceva dell'uomo in più, chi ce lo ha sa che spesso e volentieri, anche se non giochi una gara memorabile, puoi affidarti a lui per risolverla. E così accade al sessantatreesimo, dalla stessa mattonella e con lo stesso piede, lo stesso giocatore, Mario Merlonghi, punisce ancora la Iesina con la sfera che bacia il palo e si infila alle spalle di Tavoni per il sorpasso di casa. Ma il San Nicolò quest'anno è bravissimo a distruggere in un attimo quanto costruisce con fatica. All'ottantaduesimo, infatti, il missile di Trudo è potente, ma non sembra imparabile. Calore è leggermente in ritardo e il pari si materializza quando in pochi se lo aspettavano. Ma le emozioni non sono finite qua. Epifani butta nella mischia dei Gidio, che al quarantunesimo è solo contro Tavoni. serve Merlonghi, che appoggerete il pallone del 3-2, ma non ha fatto i conti con Gianluca Perna, che valuta la posizione del numero 11 come irregolare. Altro episodio da Moviola all'ottantasettesimo. Calcina ferma con le mani l'inserimento di Bucchi, per Politi però appena fuori dall'area di rigore. La staffilata da piazzato di un altro nell'entrato, Chiacchiarelli, centra la parte superiore della traversa. Dall'altra parte Frulla, sempre da punizione, trova la risposta, stavolta puntuale, di calore con i piedi, prima dell'ultimo tentativo fuori di Merlonghi, che chiude una gara tanto scoppiettante quanto ricca di polemiche per la deleazione di Politi di Lecce. E ora, per i play-off al San Nicolò, servirebbe un miracolo. Mi sapevo, possiamo dirlo, decisamente non ci siamo annoiati oggi pomeriggio. No, no, anzi, è stata una partita piacevole, dove entrambe le squadre hanno giocato per cercare la vittoria fino alla fine. Forse il 2-2 ha scontentato sia l'uno che l'altro, però alla fine, se andiamo a vedere le palle golle, i gol annullati, i rigori dati, i non dati, il risultato è quello più giusto, perché alla fine noi abbiamo avuto due occasioni con Carnevale e Pierandrei, i due gol annullati e alla fine, ripeto, le occasioni si equivalgono. Ho visto due belle squadre che hanno cercato sempre di giocare la palla nel limite del possibile. Non era facile, perché soprattutto per noi che non siamo abituati in questo campo, dove la palla va veramente a 100 all'ora, però sono orgoglioso dei miei ragazzi, non da adesso, da diverso tempo, perché li vedo proprio che cercano di vincere o perlomeno di provare a fare risultato fino alla fine. Mister, probabilmente mai ti avevamo visto così arrabbiato al termine di una gara. Che cosa hai detto all'arbitro? Che cosa ho detto? Che ha sbagliato, lo avete visto anche voi. Credo che oggi è successo l'inverosimile di quello che può succedere su un campo di calcio, perché annullare un gol regolarissimo sul fallo di mano che è inesistente di Bucchi. Il calcio di rigore sul fallo di mano all'ultimo, l'azione data di De Giglio che ha dato palla a Merlonghi per il 3-2, credo che sia. Ma io mi voglio soffermare sul 3-1 perché il gol di Bucchi va il 3-1, la partita è finita. C'è da dire che è stata una bella partita, dove la squadra ha fatto bene, ha giocato in maniera molto sbarazzina perché avevamo cercato di vincere, e l'ha fatto, e credo che meritavamo di vincere. Però oggi abbiamo trovato un avversario in più che io non lo dico mai, ma credo che ha condizionato la partita. Ma è l'andamento un po' di tutte le partite in casa, dove io non sono soddisfatto, perché la squadra non ha avuto degli arbitraggi equi in tutte le partite in casa. Questo è il dispiacere più grande perché noi siamo una società sana, una società importante in questa categoria, una società che rispetta tutte le cose, però noi siamo pochettino rispettati di meno sotto questo punto di vista. Poi ci sono i ragazzi che si danno da fare, hanno fatto un grandissimo campionato anche quest'anno, nonostante tutte le vicissitudini.